Steven, sei ancora single? Ho sposato la campagna, governatore. Bella risposta. Tu qui sei una star, mentre io una povera stagista. A che ora lavori domani? Alle nove. Non ero misterioso ed elegante? No, eri piuttosto sfrontato. Non sai fare il noto alla cravatta? Non lo so fare. Se il tuo uomo vince, alla Casa Bianca avrai lavoro. Io sono sposato da undici anni. Il che significa che quando non siamo d'accordo, vince lei. Tu lavori per noi. Tu sei un uomo sbagliato, devi lavorare per noi. Oggi è l'inizio di una battaglia tra due ordini di pensiero. Chi ti chiama alle tre del mattino? Non lo so. Vediamo. Dammelo. No, che non te lo do. Steven, non sei divertente, dammi il telefono. Pronto? Sono nei guai. Il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, Mike Morris. Vuoi che la notizia finisca sui giornali? Steven, nessuno lo saprà. La dignità è importante. Sai che mi danneggia Ebbe. Ma certo che lo so, per questo lascio a te la scelta. Che cazzo mi frega di quello che pensi? Mi frega di quello che hai fatto? Mi frega di quello che non hai fatto? Hai voluto sistemare le cose. A te la scelta. L'etica conta. Da essa dipende il nostro futuro. Vattene ora, finché ne hai l'occasione. Steven, non fare così. Io se ci credo sono pronto a tutto. Ma devo credere nella causa. a lo scelta. È tutto. Grazie a tutti.